salve a tutti e benvenuti al nuovo video di zucchero free questa è una mia postazione provvisoria poi tornerò in una postazione originaria cioè quella che utilizzo per registrare i video oggi come vi ho promesso farò un recap del festival di sanremo dirò una mia considerazione sul festival di sanremo il festival della canzone italiana sanremo è finito nel sabato scorso quindi oggi è già l'inizio settimana successiva alla settimana successiva al festival di sanremo bene io adesso come prima cosa leggerò la classifica la classifica dal primo all'ultimo nome della classifica di sanremo dal primo all'ultimo allora il vincitore del festival di sanremo è stato marco mengoni poi dirò qualche cosa poi dirò qualcosa intanto leggiamo il primo è marco mengoni poi secondo il stato lazza terzo mister rain quarto ultimo quinto tananai sesto giorgia settimo madame ottavo rosa chemica 9 erodi 10 con la pesce di martino 11 moda 12 gianluca grignani 13 comacose 14 arriete 15 lda 16 articolo 31 17 paola e chiara 18 leo garman 19 mara sattei 20 con la zio 21 cugine di campagna 22 gian maria 23 levante 24 holly 25 anna oxa 26 will 27 sciari e 28 setu bene allora devo dire che questa classifica non sono tanto d'accordo sulla classifica però i primi cinque si i primi cinque a parte lazza io sono d'accordo che lazza ha fatto secondo non sono d'accordo perché la canzone non era una delle classiche canzoni sanremo è una canzone che ha che veniva che è apprezzata dai giovani quindi a prese giovani apprezzavano lazza secondo me lazza è stato votato dai giovani è stato votato lazza perché è stato sempre una delle canzoni che uno dei cantanti che è sempre stato in testa alle classifiche non in testa al primo posto però tra le prime cinque c'era sempre lazza lazza ha fatto sempre un punteggio un buon risultato una buona posizione classifica in tutte le serate anche se a me non piace la canzone di lazza però devo dire che è stato sempre tra i primi per il resto dal sesto in poi non sono tanto d'accordo su tutti su tutti avrei cambiato un paio di cosette però diciamo che anche se avrei cambiato un paio di cosette io non cioè anche se avrei cambiato un paio di cosette non è tanto importante perché dal sesto al ventottesimo non è che danno tanta rilevare l'importanza l'importanza la tavola top five quindi taranai ultimo mister re in lazza e marco mengoni al posto di lazza avrei messo un altro cantante poi ci potrebbe ci potrebbero stare tantissimi cantanti anche come come cose potevano essere ai primi cinque posti anche come cose ma adesso andiamo ai premi anzi prima dei premi andiamo a vedere le canzoni ovviamente adesso andiamo a vedere le canzoni in ordine di come non letti prima allora marco mengoni marco mengoni portava la canzone non è che le vedremo tutte le canzoni ok io adesso vi dirò alcune canzoni vi dirò allora marco mengoni portava la canzone due vite portava la canzone due vite e rimarrà una delle canzoni che sarà ascoltata perché marco mengoni è stato bravissimo anche la serata delle cover ha fatto una canzone che un'interpretazione con il kingdom child che era veramente fuori dal comune cioè marco mengoni è stato l'unico in grado di poter portare la canzone italiana devo dire l'unico in grado perché marco mengoni è bravo a cantare ha anche una buona tecnica per cantare non è uno che strilla o canta di gola o canta strozzato no è uno che canta veramente bene marco mengoni e poi ha una bella voce una bellissima voce marco mengoni poi abbiamo lazza lazza portava cenere ecco la canzone di lazza non mi è piaciuta la canzone di lazza perché non è una delle classiche canzoni di saremo però è una delle quelle canzoni che è un po tecno un po rap non mi è piaciuta per niente e devo dire che lazza che sta al secondo posto non mi va bene per me non mi va bene lazza poteva essere per esempio tra i primi i primi 28 ok dal 28 al sesto ma non dal quinto al primo poi abbiamo detto mister rain mister rain portava la canzone supereroi devo dire che mister rain ha portato una delle canzoni che io pensavo mister rain chissà che canzone portasse con questa una che quale canzone rap ma la canzone mister rain io pensavo che mister rain potesse fare secondo o primo se la battevano tra marco mengoni e mister rain per me infettimo di sanremo perché mister rain ha portato una canzone veramente bella portato mister rain ha con la giusta dose di rap aveva raggiunta dose di canzone tra virgolette normale cioè come siamo abituati a sentire e un ritornello bellissimo cantato da questi bambini quindi era molto bello supereroi a me è piaciuta questa canzone quindi per me doveva vincere o marco mengoni o mister rain mister rain poteva fare secondo poteva fare al posto di lazza secondo me al posto di lazza ci doveva essere mister rain ecco poi un ultimo portava la canzone alba ultimo si è presentato nella prima serata senza senza pianoforte poi nelle serate successive si è presentato col pianoforte io escludo la serata delle cover dico solo quando ha cantato la sua canzone apporto quindi il pianoforte ultimo è anche un bravo cantante mi è piaciuto anche questa canzone che ha portato e poi per ultimo abbiamo taranai taranai che portava la canzone un attimo solo tango la canzone di taranai era bella pure la canzone di taranai ecco io a queste cinque avrei aggiunto per esempio potevano esserci come cose potevano esserci poteva esserci poteva esserci per esempio con la pesce di no con la pesce di martino no però avrebbe messo paola e chiara potevano stare anche tra i primi cinque potevano stare paola e chiara gli altri no gli altri allora devo dire oltre a prima le prime cinque canzoni adesso abbiamo visto quali erano e che cosa è la mia critica adesso senza dire i titoli farò un dirò alcune cose sugli altri cantanti giorgia ha portato con sé una canzone che non valorizzava la sua voce giorgia c'è una voce pazzesca ciao giorgia ma questa volta non è stata valorizzata la sua voce quando nella serata del cover ha cantato insieme ad elisa sì lì ha valorizzato la sua voce insieme a quella di elisa ma la canzone che ha portato parole dette male non era una canzone che valorizzava la sua la sua voce quindi per me giorgia non si è fatta valorizzare ecco non si è valorizzata se giorgia portava una canzone che faceva esaltare le sue doti vocali magari poteva anche stravincere ma non ha fatto questo poi madame ha portato una canzone il bene nel male e mi è piaciuta pure questa canzone questa potrebbe diventare un tormentone estivo potrebbe diventare questa canzone di madame e devo dire che madame ha portato una canzone nelle cover via del campo insieme a izzi insieme a izzi via del campo e ha fatto una bella interpretazione di via del campo pensavo che la stravolgesse però madame ha avuto belle potenzialità per fare questa canzone via del campo è la sua canzone nel bene il bene nel male potrebbe diventare un tormentone perché un ritmo pallabile una canzone un motivetto che si può ricordare che il ritornello rosa chemical rosa chemical non l'avrei mai messo all'ottavo posto devo dire rosa chemical non l'avrei messo mai all'ottavo posto rosa chemical a portare una canzone per me è vomitevole per me però parlo non parlo del testo non capite non parlo del testo parlo proprio della canzone in sé parlo della musica parlo dell'aspetto musicale della melodia non mi è piaciuta la canzone di rosa chemical era troppo diciamo una volgarità questa canzone al di là di quello che parla il testo che adesso non sono più a criticare il testo ma a criticare le musiche non è veramente una canzone che avrei ritenuto ammettere all'ottavo posto rosa chemical poi rosa chemical può essere anche come Achille Lauro che è un trasformista quindi ogni sera portava un abito diverso portava e poi anche lui quella ultima cosa che ha fatto che ha baciato in bocca Fedez quello è stato anche un po' criticato però è il festival dell'amore questo ci può stare il festival dell'amore e quindi tutti che si amano ero di ha portato una bella canzone anche ero di anche se però non è sempre dello stile suo diciamo con la pesce di martino hanno portato una canzone che anch'essa può essere considerato un tormentone estivo potrebbe diventare un tormentone estivo anche perché c'è tutte potenzialità per diventare un tormentone estivo dato che parla proprio di mare mare io lavoro ma poi parla anche di mare e parla di splash non è splash ma splash splash alla fine quindi un bel tuffo e questa canzone può diventare un bel tormentone i modà sono stati veramente bravissimi i modà i modà hanno fatto una canzone che diciamo la canzone che portavano i modà è sempre nel loro stile nel loro rock rock dei modà però devo dire che la serata delle cover hanno fatto veramente una bella interpretazione della canzone le vibrazioni con le vibrazioni vieni da me vieni da me è stata una delle interpretazioni una delle più belle interpretazioni che abbiamo ascoltato la serata delle cover però diciamo che in modà la canzone che portavano in gara è una bella pure Gianluca Grignani, beh Gianluca Grignani poteva fare di meglio Gianluca Grignani ha portato una canzone un po' diciamo non adatta era una canzone che parlava è una canzone quella di Gianluca Grignani a me non è piaciuta però devo dire perché non mi è piaciuta non mi è piaciuta questa canzone di Grignani perché era una canzone che non è che non valorizzava molto la voce di Grignani era un po' rimaneva sempre un po' piatta questa canzone e non mi è piaciuta tantissimo questa di Grignani i Comacose mi sono piaciuti è una bella canzone anche se non è una delle canzoni che poteva vincere il Fettima di Sanremo però devo dire che è una delle canzoni che mi è piaciuta e potrebbe diventare anche essa una delle canzoni ascoltate, più ascoltate di Sanremo perché è una bellissima canzone con un vero tornello quella dei Comacose poi abbiamo Ariete beh, Ariete ha portato una canzone bella pure però diciamo che è una canzone giovanile ecco, anche essa porta una canzone giovanile a Ariete che devo dire non era la vittoria però era una canzone giovanile una più bella canzone tra le giovanili che abbiamo sentito poi LDA ha portato una canzone io pensavo che LDA portava una canzone che era tutta rap tutta rappata in realtà non è stato così non era tutta rap e anche LDA ci è fatto valere oltre le aspettative che io mi aspettavo LDA è stato anche bravo cantare non allo stile del padre diciamo non ha portato una canzone allo stile del padre ricordando che LDA è il figlio di Gigi D'Alessio lui non ha portato questa canzone non ha portato una canzone allo stile del padre però ha portato una canzone che era giovanile c'era anche una giusta dose di rap però era giovanile questa canzone gli articolo 31 hanno portato una canzone veramente significativa ora io non sto facendo critica al testo ma la canzone ma qui fatemi spendere due parole sul testo la canzone degli articoli 31 parla della loro reunion e perché si sono sciolti quali sono i problemi dicono che loro si sono anche detti delle parole uno non è andato al funerale di un parente dell'altro e quindi c'è stato diciamo mettono insieme queste cose questi perché i perché si sono sciolti e poi dicono nel tornello che si sono riuniti e si sono tornati come se eravamo tanto amati quindi la canzone dell'articolo 31 è bella poi J-AX non fa canzoni bruttissime da rap fa canzoni che fa strofa rap e strofa cantata ritornello cantato e quindi è particolare allo stile degli articoli 31 degli anni 90 questa canzone Paola e Chiara hanno portato una bella canzone anche loro una canzone che può diventare anche una delle più ascoltate nella radio una delle più ascoltate alla radio quella di Paola e Chiara e anche esse si sono riuniti dopo tantissimo tempo si sono riunite Paola e Chiara Leo Gasman a portare una canzone bella giovanile no, non tanto giovanile però a portare una canzone una canzone stile Sanremese una canzone bella Mara Sattei ha portato una canzone adesso non mi ricordo quella di Mara Sattei un vuoto però la canzone di Mara Sattei la canzone di Mara Sattei era anche essa un po' che parlava veloce Mara Sattei non era proprio rap però parlava veloce nella canzone e quindi si capiva anche poco di quello che dicevano però devo dire anche la mia se uno guarda Sanremo e non capisce il testo delle canzoni non riesce a sentire il testo delle canzoni perché è dovuto all'amplificazione se tu ti vai a sentire la canzone originale magari senti anche la melodia e senti come la registrazione diciamo, la registrazione se uno sente la registrazione magari capisce meglio Con la zio hanno portato una canzone un po' cacciarona ecco, devo dirlo e con la zio hanno portato una canzone molto cacciarona non mi è tanto piaciuta quella di con la zio tant'è che era legato, sì, al gruppo all'unione del gruppo canzone di gruppo però non è una canzone che prendeva secondo me devono portare un'altra canzone devono portare che come fecero i pinguini trattici nucleari che portarono una canzone loro ma che era una canzone allo stile di un gruppo giovanile qui venivano portare una canzone di stile gruppo giovanile ma hanno portato una canzone cacciarona che fa soltanto casino casino nel senso che fa rumore ecco, fa rumore anche se aveva una sua diciamo, una sua melodia la canzone però non era una delle canzoni che valorizzavi con la zio secondo me non era una canzone buona per loro i cugini di campagna devo dire una cosa sui cugini di campagna è vero che i cugini di campagna hanno fatto la storia con animamia e l'hanno presentata alle cover però devo dire che la canzone lettera 22 dei cugini di campagna non era molto male però devo dire che cantata da loro allo stile ancora degli anni 70 perché loro si sono presentati anche allo stile anni 70 con stile hippie questi abiti queste tastiere dai figli dei fiori disegni ai figli dei fiori ormai è finita questa cosa questa favola dei figli dei fiori rinnovatevi i cugini di campagna rinnovatevi quindi secondo me non andava bene lettera 22 era una bella canzone però cantata dai cugini di campagna era molto svalorizzata svalutata questa canzone e poi anche il modo come cantavano quando hanno cantato i cugini di campagna non era un gran che devo dire la prima sera quando hanno cantato la prima sera che hanno cantato i cugini di campagna e se non ricordo se era la prima o la seconda serata però quando hanno cantato i cugini di campagna c'era un problema audio secondo me perché loro si sentivano molto bassi si sentivano come se avessero calato di qualche ottava la canzone per non cantare in quello stile loro poi quando ho sentito successivamente le altre esibizioni dei cugini di campagna era più bella la canzone al loro stile Gianmaria ha portato una canzone rap e non mi è piaciuta il rap a me non piace però è una canzone rap giovanile Levante ha portato la canzone vivo ma la canzone di Levante non era una delle canzoni che aveva del potenziale la canzone di Levante magari un'altra volta portò Tiki Bom Bom portò un'altra volta a Sanremo Levante e non era neanche quella da Vittoria e quest'anno ha portato una canzone un po' diversa dallo stile di Tiki Bom Bom e ha portato vivo ma non è una di quelle canzoni molto adatte per diciamo era adatta per un festival di Sanremo per il festival però non era una delle canzoni più diciamo da ascoltare cioè non è piaciuta molto questa canzone devo dire Olli Olli ha portato una canzone che aveva un testo con una strofa rap e un ritornello un po' più stile cantato ok quindi anche Olli ha portato una delle canzoni e il suo stile è va bene Anna Oxa non mi è piaciuta per niente Anna Oxa se portavo una canzone dello stile un'emozione da poco come la portata è un'emozione da poco nelle cover ma non mi è piaciuta l'interpretata la sua interpretazione devo dire che la canzone di Anna Oxa non mi è piaciuta perché lei è come se stesse strillando non ha più quella voce di una volta e quindi è come se fosse un po' rauca a cantarla però Anna Oxa ha del potenziale per cantare delle belle canzoni ma questa canzone non era nelle sue corde vocali Will Will oltre le aspettative io mi pensavo che Will chissà che canzone portasse non è un rapper Will è Will ha portato una canzone buona bella anch'essa Shari Shari ha portato una canzone beh Shari ha portato una canzone sua molto in accordo con il suo stile musicale e con la sua voce con le sue corde vocali Shari nella serata delle cover Shari ha portato una canzone che era di zucchero ha le due canzoni hai scelto me e diavolo in me ma secondo me lei ha portato hai scelto me e Salmo che ha cantato insieme a Shari ha portato a diavolo in me di zucchero diavolo in me di zucchero è stata proprio riarrangiata da Salmo che l'ha cantata l'ultima sera nella nella nave nella Costa Smeralda sul palco della Costa Smeralda e quindi secondo me nella serata delle cover Salmo stava presentando il suo disco era come se Salmo stesse presentando la sua canzone insieme a Shari Shari era l'ospite e Salmo era il protagonista secondo me era questa nella serata delle cover se tu se tu adesso non ricordo la canzone che ha portato però se tu era anche un rapper era tutta rappata la canzone quindi tra le canzoni che noi ascolteremo molto c'è la canzone di Marco Mengoni la canzone di Mr. Rain secondo me l'ascolteremo quella di Madame con la pesce e di Martino quella dei non lo so però quella di Modà guardate pure che la sentiremo però quella di Comacose sentiremo molto quella di Paola e Chiara e basta secondo me queste sette si sentiranno ammesso che si sentirà anche quella di Modà bene quindi abbiamo detto tutto ho detto tutto sugli andanti adesso passiamo ai premi i premi hanno preso il premio della critica mia Martini e quello della strattampa Lucio Dalla è andata con la pesce di Martino che era una bella canzone per vincere dei premi poi hanno vinto poi ha vinto il premio di Sergio Bardotti per il miglior testo I Comacose e ci sta di Comacose era un bellissimo testo Lattio era molto bella quella di Comacose vi consiglio di andarla ascoltare quella di Comacose e poi abbiamo il premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale a Marco Mengoni certo Marco Mengoni ha fatto una canzone veramente bellissima anche lui è autore della sua canzone Marco Mengoni quindi mi è piaciuto mi è piaciuto che ha vinto il festival e ha vinto il premio Giancarlo Bigazzi per la composizione ora diciamo un po' come è andato questo festival le serate allora la prima serata ha fatto schifo il festival Sanremo come audio come audio ha fatto schifo poi perché si sentiva tutto male anche Blanco non sentiva la voce ci può stare i cugini di campagna si sentivano male si sentivano come audio Anna Oxa era rauca poi abbiamo anche visto questa è stata la prima serata poi anche che ovviamente tra gli ospiti c'erano i Poo i Poo come canta Facchinetti oggi non è come canta oggi Facchinetti non mi piace per niente perché lo strilla solamente strilla urla è un urlatore nel senso che urla ma non canta più non ha più la voce di una volta Facchinetti bisogna abbassare le canzoni di Facchinetti e dei Poo di qualche tono la seconda serata è stata bellissima perché abbiamo avuto la reunion di tre artisti a tre artisti bravi Albano Gianni Morandi che è anche co-conduttore e Massimo Ranieri questi tre erano una bella accoppiata e ci hanno fatto rivivere delle canzoni bellissime della musica italiana e 80 anni li ha festeggiati Albano poi quindi la seconda serata abbiamo sentito la seconda parte dei cantanti abbiamo sentito gli altri 12 12 la prima serata 12 cantanti la seconda serata la terza serata mi è piaciuto molto mi è piaciuta la terza serata anche ha ricantato anche Massimo Ranieri doveva cantare Peppino Di Capri poi per un abbassamento di voce non ha cantato una terza serata ma ha cantato una quarta serata la serata delle copere quindi la terza serata è stata anche bella la terza serata diciamo che la terza serata oltre a Massimo Ranieri anche se ci sono stati i Maneskin a cantare no si si i Maneskin sono stati la terza serata a me non piacciono i Maneskin però i Maneskin hanno fatto un medley e hanno suonato con una delle leggende del rock il chitarrista più famoso del rock che è Tom Morello Tom Morello io lo conoscevo perché stava in Guitar Hero 3 Guitar Hero 3 Legend of Rock e quindi in quel gioco c'era Tom Morello però Tom Morello non mi piace perché Tom Morello è un virtuoso che non mi è mai piaciuto però devo dire che i Maneskin anche se hanno fatto delle canzoni di cover hanno cantato anche Zitti e Buoni che era la loro canzone che hanno portato a Sanremo la serata delle cover è stata una delle serate più belle del festival io non me la scorderò mai questa serata ci sono state delle interpretazioni da brivido come vi ho detto prima e quindi ci hanno fatto sognare i cantanti quest'anno è stata bellissima la serata delle cover e vi consiglio di scaricarvela questa verità delle cover di Sanremo 2023 perché è stata una delle più belle interpretazioni della musica italiana dei cantanti italiani è stata proprio una bellissima serata ma ci hanno fatto sognare anche Peppino Di Capri ci ha fatto commuovere perché Peppino Di Capri anche se non si legge più in piedi perché è anziano però ha ricevuto il premio alla carriera e ha cantato Champagne una delle sue canzoni più famose l'ultima serata è stata la serata quella più diciamo decisiva dove abbiamo sentito tutte e 28 le canzoni e abbiamo sentito anche i 5 che hanno ricantato le canzoni ora quello che hanno fatto dopo le 2 di notte non mi è piaciuto per niente perché penso che il Festival di Sanremo deve essere solo esclusivamente legato alle canzoni alla musica la politica deve stare fuori ora che Zelensky voleva dare un suo messaggio alla popolazione italiana un messaggio cioè un messaggio ha fatto un ringraziamento al Festival ha eroggiato il Festival io non voglio entrare tanto nel merito però secondo me è azzardato quello che penso io e non lo dico il qui non lo dico però è azzardato quello che penso poi secondo me Zelensky ha fatto tutto ciò per ringraziarsi l'Italia perché Zelensky sta ricevendo armi dall'Italia tra l'Unione Europea soprattutto dall'Italia aiuto dall'Italia e secondo me questo non doveva far trapelare all'effetto di Sanremo come non dovevano cantare la band ucraina la band ucraina 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 che ha cantato non doveva cantare secondo me quel momento era da cancellare non era da fare l'effetto di Sanremo bisogna perché a parte che noi non siamo ucraini siamo italiani e quindi dobbiamo rimanere più legati all'Italia e quindi quel momento lì non ci doveva essere è vero che si dice che Zelensky avesse fatto tutto di sua spontanea volontà non è stato forzato da nessuno a fare questa cosa l'ha fatto di sua spontanea volontà quindi però non era una cosa che doveva esistere al festival di Sanremo Poi abbiamo visto la canzone che ha vinto e quindi mi è piaciuto molto che ha vinto Mengoni sono molto contento che ha vinto Mengoni ripeto Mengoni al primo posto secondo posto Mr. Rain e poi gli altri gli altri due ultimo e Taranai secondo me queste devono essere la top 4 e poi mettere o Icomacose o qualcun altro mettere al quinto posto per me invece hanno vinto Marco Mengoni primo e secondo Lazza terzo Mr. Rain Lazza non era dal top 5 secondo me Lazza l'hanno votato i giovani come ho detto all'inizio bene questa era la mia considerazione il mio recap su Sanremo il 2023 io farò la stessa cosa l'anno prossimo per Sanremo il 2024 se io parteciperò a un festival di Sanremo non farò questo video non farò questo tipo di video perché partecipo io al festival di Sanremo stiamo vedendo se partecipare a un festival di Sanremo io libero Gian Giacomo libero sui fiani stiamo pensando di suonare di andare a Sanremo l'anno prossimo non vi svelo quale è la canzone e non vi svelo niente allora questo è tutto ci vediamo l'anno prossimo con questo tipo di video si spera io vi invito a cliccare sul tasto iscriviti iscrivetevi al canale attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutti i video che uscirà ricordatevi se potete seguirmi potete seguirmi qui sotto nei commenti potete contattarmi qui sotto nei commenti potete contattarmi anche su facebook sulle pagine facebook strade azotterrae italiane video lezioni di fisica e astrofisica potete contattarmi anche su telegram potete contattarmi io su instagram ci sono ma non sono tanto attivo su tiktok non ci tornerò nel momento e qui però anche lì ho fatto qualche cosa su tiktok vi do appuntamento al nuovo video di zucchero free e porassi questo video questo video non è montato ecco quindi non vedete le fotografie è stato messo così questo video è stato messo vi do appuntamento al nuovo video di zucchero free e ciao ciao